Buongiorno a tutti, come ho anticipato ieri in una diretta che ho fatto su questo canale tra vari libri che ho comprato recentemente c'è questo Guerra e pace nell'era spaziale volume è scritto nel 1858 e nell'edizione italiana del 1859 e come autore è il generale James M. Gavin che per chi non lo conoscesse è stato uno dei più importanti generali americani della seconda guerra mondiale giovanissimo, classe 1907 era già generale durante la seconda guerra mondiale comandante di reparti aviotrasportati si sarebbe stato, partecipò all'operazione TORS all'attività nell'occupazione del Maghreb poi in Sicilia, poi nella Campania d'Italia poi in Normandia, poi nell'operazione Market Garden fu addirittura comandante dell'82esima divisione aviotrasportata quindi un importantissimo ufficiale che in qualche modo attraverso una carriera veramente fulminea ma meritatissima ebbe gli onori della gloria militare negli anni 50 anche scrivendo, si dimise dai suoi roli militari andò in congeto scrisse questo volume molto polemico tra l'altro poi negli anni 60 venne richiamato da Kennedy in servizio nell'amministrazione pubblica americana per ricoprire l'importante delicato ruolo di ambasciatore americano a Parigi ritenendo Kennedy che in un momento particolarmente delicato nelle relazioni tra Stati Uniti e Francia un ex militare come Gavin che aveva delle relazioni molto cordiali con gli apparati politico-militari francesi il discorso de Gaulle quindi come la Francia che rappresentasse sempre un po' una mina vagante all'interno dell'alleanza atlantica ma anche all'interno di una serie di più o meno di più o meno coinvolgimenti di natura diplomatica e militare quindi e Gavin anche in questa circostanza diciamo fece il suo ruolo di grande timoniere e di pontiere anche in questo senso però facciamo un passo indietro e vi fu un atteggiamento un po' polemico polemico però costruttivo già dal sottotitolo i retroscena politici e militari nella gara dei missili denunciati da un generale americano e come viene menzionato nella quarta di copertina convinto di essere più utile come scrittore e critico militare che come membro dello Stato Maggiore il generale americano James M. Gavin a 50 anni e con tre stellette di generale lascia l'esercito per il quale ha servito con intelligenza e devozione per 34 anni perché entrò 16enne per poter nominare i nomi e raccontare i fatti il generale Gavin rivela i retroscena politici e militari che hanno consentito all'URSS di acquistare un vantaggio minaccioso in fatto di missili balistici intercontinentali attestata nucleare e di satelliti egli muove accuse assai gravi ai capi politici e militari degli Stati Uniti e con l'autorità che gli viene da una lunga esperienza e da una profonda conoscenza tecnica illumina le conseguenze catastrofiche di un nuovo conflitto c'è un virgolettato il mondo di domani egli dice non sarà che un piccolo teatro tattico la minaccia strategica verrà dallo spazio dai satelliti e dalle basi spaziali armate con missili finisce il virgolettato ma stiamo ancora in tempo a evitare il disastro guerra e pace nell'era spaziale che ha suscitato in America un eco enorme è destinato a prendere posto negli scaffali accanto a più importanti documenti del nostro tempo e come viene evidenziato nella premessa dello stesso Gavin scrivendo questo libro ho cercato di essere realista nell'esaminare la nostra situazione presente e passata e nel guardare all'avvenire così facendo ho tentato di evitare di far nomi e di puntare un dito accusatore in quanto noi tutti me compreso siamo responsabili del punto al quale ci troviamo adesso discorso dello Sputnik eccetera ne questo è il momento di serrare i ranghi e di affrontare come un popolo unito il pericolo che ci minaccia da quando sono emersi con evidenza difetti nella nostra struttura organizzativa e manchevolezze sono apparse chiare nella nostra politica difensiva ho cercato di far rilevare gli uni e le altre solo in questo modo possiamo correre ripari e prepararci alle più grandi sfide del domani negli scorsi dieci anni sono stato in stretto rapporto con lo sviluppo della politica di difesa nazionale quale membro della sezione studio mezzi di difesa nonché prendendo parte alle ricerche concernenti le innovazioni tattiche sul campo di battaglia ho scritto in questo periodo un certo numero di volume e di articoli la guerra con le truppe aerotrasportate impiego tattico delle armi nucleari cavalleria non equivale a cavalli guerra premendo un pulsante perché i missili eccetera ognuno di essi concerneva un problema ben distinto della difesa nazionale ma il problema che domina tutti gli altri non è mai stato preso in esame come un tutto organico il presente volume si propone di fare proprio questo trattare il problema nazionale come un insieme in termini di spazio della terra e del compito di tutte le armi di quell'ente addetto alla difesa dal quale dipendono è un'impresa realmente difficile che forse trascende le capacità umane e non potrà essere ben realizzata cioè nonostante è necessario compierla l'argomento della guerra e della pace è paragonabile a un iceberg nel senso che la maggior parte di esso per motivi di sicurezza non può essere esposto al pubblico questo libro pertanto è basato su quella parte di informazioni che può essere comunicata al pubblico tuttavia posso affermare a ragion veduta che le tesi importanti del presente volume potrebbero soltanto essere avalorate dal materiale di cui per motivi di sicurezza ci è negato servirci noi americani dobbiamo dedicare una maggiore attenzione al problema della sopravvivenza nazionale e dobbiamo imparare a pensare alla terra come a una entità tattica allo spazio come la prossima grande sfida strategica allo spazio e alla mente umana il presente volume è un modesto sforzo per giungere proprio a questo ho un solo rincrescimento di non aver potuto dedicare più tempo alla stesura del libro ha impegnato gran parte dei miei pensieri in questi ultimi anni e tutte le mie ore di lavoro negli ultimi due mesi se potrà dare un contributo alla difesa del nostro paese e dell'occidente contro il minaccioso accerchiamento del comunismo ne sarà varza la pena giugno 1958 James M. Gavin allora sappiamo bene come poi l'evoluzione della storia internazionale ha comportato fortunatamente alla mancata guerra tra Unione Sovietica e Stati Uniti con tutta una serie di guerre locali che ben conosciamo in realtà poi le minacce vere sono state perpetrate essenzialmente dal terrorismo con forme meno ortodosse di guerra quindi con elementi molto più dozzinari molto più quotidiani rispetto a gli elementi apocalittici che venivano previsti da Gavin in questo volume che tra l'altro ripeto è molto interessante tra l'altro c'è anche una una cartina che vi vorrei far vedere che per scasare trovo eccola qua in cui ah no sono più di una cartina qui sono degli elementi in cui si fa l'esame dei tiri balistici delle varie posizioni ma c'è anche un'altra che riguardava gli Stati Uniti eccola qua questa del Pacifico quindi con dei riferimenti di un certo di un certo interesse nell'elemento ecco qua questo era il Nord America con le sue posizioni eccetera vi vorrei leggere l'indice e poi vi leggo le conclusioni così da darvi un'idea allora l'indice premessa cioè la premessa quella che vi ho letto capitolo primo l'evento più significativo dei nostri tempi capitolo secondo il ramoscello si piega capitolo terzo il combattimento è un croggiuolo capitolo quarto dalla Normandia a Berlino capitolo quinto che è una serie di voci intermedie il decennio del dilemma 1945-55 gli insegnamenti della seconda guerra mondiale la crescente importanza della mobilità aerea la funzione delle armi nucleari crescente intransigenza sovietica lo sviluppo di un piano di sicurezza collettiva la Corea e la guerra limitata l'Indocina e la guerra limitata e siamo solo nel 58 quindi il Vietnam sarà da venire il progetto vista riportare la lotta sul campo di battaglia in carico alla Nato il New Look politica del congresso e del dipartimento della difesa poi capitolo sesto la filosofia militare sovietica vi seppelliremo capitolo settimo il decennio della decisione 1955-1965 quindi è programmatico visto che il libro è del 58 che cosa vogliamo tattica della guerra planetaria strategia e spazio l'organizzazione della difesa compendio una strategia di pace che adesso vi leggo quindi una strategia di pace abbiamo ampiamente chiarito sia con pubbliche dichiarazioni sia con il nostro atteggiamento nelle questioni internazionali che vogliamo la pace eppure abbiamo ugualmente subito gravi perdite militari quali vittime dell'aggressione comunista ovviamente qui parla un generale americano o almeno un ex generale americano quindi diciamo un elemento anche ideologico programmatico va da sé ora ci troviamo al secondo posto militarmente al secondo posto per quanto concerne l'esplorazione dello spazio la strategia sovietica continua a riscuotere successi mentre le difficoltà dell'occidente si moltiplicano continuando in questo modo non avremo che una pace la pace di Cartagine è gran tempo che rinnoviamo la nostra strategia passando dalla strategia per evitare la guerra alla strategia per la pace poiché lo scopo della strategia è quello di rendere inutile il combattimento materiale noi come popolo libero dovremmo poter attuare una strategia del genere la nostra democrazia si è sempre schierata per la pace e per la libertà sia dalla fondazione della repubblica e noi dovremmo essere ora fermi assertori di entrambi questi scopi dobbiamo anzitutto essere sinceri con noi stessi e analizzare con chiarezza di pensiero i nostri insuccessi e i nostri successi la struttura della difesa nazionale dovrebbe essere tale da minimizzare il danno dovuto alle forze di disgregazione attualmente insite nei procedimenti democratici attraverso i quali si perviene alle decisioni quindi anche un'analisi di tipo politico-amministrativo non possiamo eliminare dalle forze né vorremmo farlo ma possiamo senza dubbo studiare una organizzazione e piani che ne riducano al minimo i danni non dovremmo mai tollerare una struttura difensiva o procedimenti democratici che incoraggino gli elementi deteriori del nostro sistema della libera iniziativa ad essere la causa di ritardi e decisioni errate o anche che consentano loro una cosa simile la difesa nazionale è il problema più complesso del mondo moderno e il nostro segretario della difesa dovrebbe poter disporre dei migliori pareri tecnici che sia possibile assicurargli il dipartimento della difesa in collaborazione con gli altri componenti del consiglio della sicurezza nazionale dovrebbe creare una strategia nazionale all'altezza per quanto concerne la portata e gli obiettivi delle necessità della nostra sempre più grande democrazia limitarsi a prescegliere una singola strategia o una singola tattica e poi annunciarla al mondo significherebbe cedere l'iniziativa e correre così verso l'insuccesso strategico e la guerra sicura i nostri programmi di aiuti economici e tecnici dovrebbero continuare ad essere attuati ed essere strettamente coordinati con i piani strategici e i nostri piani strategici dovrebbero rispecchiare la piena consapevolezza dell'importanza cruciale dello spazio della psicologia e della tecnologia la tecnologia dovrebbe riflettere la nostra consapevolezza dell'attuale situazione economica della necessità di piani prudenti per quanto concerne l'utilizzazione delle risorse e infine della preeminente importanza dei vantaggi temporali se vogliamo vincere la gara tecnologica tutte queste cose sono possibili con la preveggenza e con una energica dedizione al compito che ci aspetta con tale dedizione e con sacrifici da parte del nostro popolo possiamo prendere quelle decisioni tecnologiche che ci restituiranno l'iniziativa strategica solo così la nostra potrà essere una strategia efficace capace di rendere inutile la battaglia tattica ad essa i liberi popoli del mondo possono aspirare con fiducia e speranza sarà una strategia di pace allora sappiamo che la storia ha avuto dei sviluppi fortunatamente legati a un continuo equilibrio seppur instabile ma che in qualche modo ha sempre rinviato fino al crollo del comunismo di uno scontro diciamo uno scontro diretto tra blocchi tra Stati Uniti e Unione Sovietica quindi diciamo che in qualche modo l'indirizzo verso il quale il pensiero di Gavin in qualche modo era rivolto e si è realizzato non fosse altro poi perché la corsa nello spazio è stata comunque vinta dagli Stati Uniti rispetto a quel momento specifico in cui l'Unione Sovietica sembrava in vantaggio però nonostante tutto sicuramente un volume che in qualche modo ci dà uno spiraglio all'interno di tematiche di grande importanza tra l'altro vorrei a concludere di dire come la Bompiane in quella collana che si chiamava Cose d'Oggi aveva già pubblicato una serie di volumi che riguardavano tematiche legate appunto all'attualità politica internazionale pensando alla tematica di Berlino al rapporto tra appunto Casa Bianca e Cremlino ad altre tematiche di varia natura che all'epoca erano sicuramente all'ordine del giorno quindi diciamo un volume secondo me che può essere di qualche ausilio anche nella comprensione delle dinamiche dell'evoluzione storico-politica degli ultimi 60-70 anni detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao ciao